Il blocco del gasdotto Nord Stream, dove transita il metano per l'Europa, è dovuto unicamente alle misure europee che hanno impedito le adeguate riparazioni. Lo ha ribadito il vice premier di Putin con delega per l'energia Alexander Novak. Controli sanzioni musca evoca l'inizio di una grande tempesta globale e preoccupa la situazione intorno alla centrale di Zaporizia. L'Ucraina invita la comunità internazionale ad adottare urgentemente misure per la smilitarizzazione dell'aria per evitare un incidente nucleare. In una telefonata tra il presidente turco Erdogan e quello russo Putin, Ankara ha aperto la strada al dialogo e offerto una possibile mediazione tra Mosca e Kiev.